Musica Amici miei bentornati ancora una volta qui online sul canale Sono felicissimo, contentissimo e per questo vi dico grazie, grazie, grazie mille per tutto il supporto Perché questi video dedicati ai gadget stanno andando bene Non lo nascondo, non ve lo nascondo e sono super super contento perché mi sto divertendo un sacco Nel cercare e comprare forse un po' meno, ma mi sto divertendo tanto e vedo che vi piacciono E vi sto aiutando anche a trovare delle soluzioni interessanti Oggi torniamo a parlare di gadget economici, quindi non perdiamoci in troppe chiacchiere Siamo sotto i 30€ con questo video, ovviamente trovate tutti i link di Amazon qui sotto in descrizione E sapete bene che acquistando con Amazon voi supportate anche il canale in maniera completamente gratuita Detto questo non perdiamoci in troppe chiacchiere, iniziamo subito e vi dico che ci sono due chicche spettacolari Seppur un po' fuori budget, ma veramente ragazzi parliamo di 3€, 5€, ma andiamo E partiamo con il primo, il primo gadget di oggi che è volato E questo qui è un portafoglio MagSafe della Spigen Correggetemi e fatemi capire come si pronuncia qui sotto nei commenti Ok? E vi dico che è eccezionale per diversi motivi Uno è un portafoglio classico come quello che vende anche Apple Vedete che qui ha, diciamo, due portacarte Ne potete mettere due e non avete problemi È magnetico e funziona molto bene E si applica all'iPhone, vedete, in maniera molto semplice Ed è molto resistente anche quando lo inserite in tasca Non avete problemi e non vi dà problemi anche per quanto riguarda lo spessore Veramente perfetto sotto questo punto di vista Quindi comodissimo anche per quanto riguarda l'utilizzo poi quotidiano Ma cosa ancora più interessante Non è soltanto il design che mi piace particolarmente Devo essere sincero con voi Ma la feature che poi nasconde in un certo senso Perché aprendolo in un certo senso in questo modo qui Lui vi funzionerà da stand E non solo da stand verticale Ma anche da stand orizzontale E ragazzi è uno spettacolo Una favola E mi è stato molto molto utile Non solo per quanto riguarda le vacanze Nel momento in cui volevo guardare magari un video Ma anche per quanto riguarda la registrazione di video Perché io lo utilizzo in questo modo qui Ed è una bomba ragazzi Fantastico Un gadget super economico Ma che secondo me dovete avere Se avete un iPhone 12 12 Pro 12 Pro Max Tutto quello che volete Sempre rimanendo nel discorso Apple Spigen Spigen E diciamo MagSafe Devo consigliarvi anche questo qui Che è proprio il MagSafe di Apple Ma realizzato da Spigen Funziona molto bene Forse lato materiali un pochettino sottotono Ha la USB-C per quanto riguarda la presa Per quanto riguarda il collegamento Ma lato performance Non ci sono assolutamente differenze Per quanto mi riguarda E per quanto riguarda quello che effettivamente Ho provato, testato e visto io Si applica lo smartphone in maniera molto semplice Come vedete Non rimane fisso Non ha una parte gommata Diciamo che ferma il prodotto Sulla scrivania Sulla parte dove effettivamente Poi l'andate ad appoggiare Sulla superficie di appoggio Ma devo dire che Non vi darà problemi Non mi ha dato problemi Di grossi surriscaldamenti Ed è un prodotto Che se volete Appunto Entrare nel mondo Del MagSafe Vi permette di farlo Nel modo più economico Ma efficace possibile Fantastico Vi lascio il link Qui sotto in descrizione Mi ha dato tante soddisfazioni Ed è molto molto interessante Rimanendo sempre In tema Apple E con questo siamo Verso gli ultimi Diciamo Ma sono interessanti E li ho provati E mi hanno dato un sacco di riservazioni Per questo ve li consiglio Devo consigliarvi Questo qui Lo so L'avete visto 150 miliardi di volte Ultimamente online Ma l'ho provato Mi ha dato un sacco di soddisfazioni E ragazzi Acquistate lui E non quell'originale Apple Perché Sì È un po' più grosso Ma vi offre più Miliampere E basta Ragazzi Vi offre le stesse cose di quello Ma Con Diciamo Quel pizzico di Proagine in più Passatemi il termine Funziona meglio Secondo me E poi I miliampere sono importanti Anche perché dovete Avere la possibilità Di reggere Almeno un iPhone 12 Pro Max Un iPhone 12 Mini Eccetera eccetera Per più tempo Deve aver senso Un power bank del genere Messo nel posteriore Non dà problemi Nell'utilizzo quotidiano Soprattutto con un 12 Pro Max Che paradossalmente Vi migliora l'esperienza Perché Voi lo utilizzate in questo modo Non prendo neanche lo smartphone Prendo il power bank E lo utilizzate in maniera molto semplice Certo diventa più spesso Certo diventa più grosso Ma per il resto Non ci sono problemi Bello il design Tra l'altro Stanno per uscire Nuove colorazioni In casa Anker Quindi top Se come me siete Amanti del bianco Potete prenderlo bianco Io l'ho acquistato Nero ormai Mi va bene così E costa sì 40 euro Ma spesso va in offerta Sui 35 38 Una cosa del genere E ve lo inserisco qui Perché Potrebbe aver senso Voi seguitemi su upgrade Perché lì appena va in sconto Ve lo consiglio Ve lo linko E sappiate che su upgrade Io vi consiglio app Giochi Wallpaper So che sono un po' Inattivo Ma torneremo Prima o poi Adesso fatemi passare un attimino Questa sessione Ma vi Diciamo così Anche dei prodotti Gadget Ma non spammo Sotto questo punto di vista Quindi Tranquilli È un gruppo per stare insieme E per essere aggiornati su tutto E per chiacchierare anche un po' Trovate tutto qui sotto Detto questo Fantastico Abbiamo 5000 mAh Ed è ottimo Ve lo starà consiglio È una bomba ragazzi Il migliore E in vacanza Ho portato Uno e due E mi ha dato Un sacco di soddisfazioni Una bomba Detto questo Seguitemi su TikTok Perché lì vi ho aggiornato Anche su diverse cose Della vacanza Sto mettendo diversi TikTok Vi lascio il link qui sotto E andiamo avanti E vi parlo di questa piccola Basetta Di ricarica Della Elago Non è una base di ricarica Che vi va ad integrare Vi inserisce già tutti Diciamo Gli attacchi Ecco Per la ricarica Dovete metterceli voi Dovete inserire qui sotto Il MagSafe di Apple Solo originale Dovete metterci voi Il cavo per la ricarica Delle Airpods E voi Il cavo Comunque la dock Se così possiamo dire Per la ricarica Delle Apple Watch Ma è un qualcosa Che vi straconsiglio Per mettere ordine Sul comodino Su una scrivania E tutto quello che volete Super ben costruito Silicone Ma devo dire Molto molto ben fatto Trattiene abbastanza bene Le impronte E la polvere Su questa colorazione nera Tende un po' a vedersi Ma ve lo straconsiglio Proprio per Il design E per il concetto Che poi c'è dietro Mi piace veramente un sacco E poi è super economico E vi darà Tante tante soddisfazioni E poi il dettaglio Scritto qui Hello Stile Apple È una bomba Super super ben costruito Non l'ho sfruttato al pieno Ma prossimamente Lo sfrutterò Perché mi manca Semplicemente Diciamo Il MagSafe originale Io vi ripeto Ho sempre utilizzato Comunque Ho utilizzato Per due settimane Questo qui L'ho provato Ma non va bene Perché è un po' troppo grosso Non è adatto A questo Questo qui Che si riferisce appunto Agli originali Ma ci sta Assolutamente Tantissimo Detto questo Andiamo verso Il gadget Un attimino Più generale Che potete utilizzare Tutti E parto Con un gadget Che ho portato con me Sempre in vacanza Super economico Ma che potrebbe darvi Un sacco di soddisfazioni Se come me Volete registrare Video Foto Comunque fare foto E registrare video Con smartphone Ne abbiamo due In generale In questo target Questo qui È molto più semplice È una C Un supporto C Per smartphone Che va poi Adattato su un treppiedi Se avete treppiedi Sicuramente Questo è il miglior acquisto Perché effettivamente Vi permette di completare Il tutto Magari con un Pixie È la perfezione Perché non solo Vi permette appunto Di avere Appunto L'aggancio Ecco per smartphone Ma vi permette anche Di avere Un aggancio Slitta Per microfoni Faretti Eccetera Eccetera È una bomba Costa pochissimo Della Manfrotto Eccezionale Ve lo straconsiglio E mi ha dato un sacco Di situazioni Ma se volete Un qualcosa di molto più diretto E pratico da utilizzare Io ultimamente Ho unboxato anche sul secondo canale Se non l'avete visto Andatelo a vedere Il video Perché è molto interessante E lì vi aggiorno un po' Su tutti Le anteprime Su prodotti Gadget Unboxing Parliamo di produttività Vlog Tutto quello che Mi riguarda Per quanto riguarda Il mio mondo Il mio essere Vi parlo tutto Vlogghiamo un sacco Ma come vi stavo dicendo Abbiamo unboxato questo qui E devo dire che Ne vale la pena Lo utilizzerò tantissimo Per le live Su Instagram Quindi seguite su Instagram Che è importante Su Twitch Canale di Ola Vabbè Twitch Ragazzi Quindi seguiteci Stanno per arrivare Un sacco di novità E anche per il podcast Ma anche per vloggare Con iPhone Perché? Perché è un supporto Di Xiaomi Super economico Quindi super accessibile Quindi state tranquilli Sotto questo punto di vista Ma Non solo vi permette Di avere una C Molto ben fatta Devo dire Bella resistente Che può essere Posizionata così In verticale E anche Cioè così In verticale E in orizzontale A differenza poi Di questo qui Che poi si adatta Al treppiedi Ma vi permette Di avere Una prolunga In questo senso Quindi potete utilizzarlo Come selfie stick E per vloggare È una bomba Ma vi permette A questo tempo Di avere un treppiedi Perché fatto questo Voi avete Un supporto Bello completo Che vi aggiunge Poi anche Dei comandi Esterni Da remoto Se non avete Un Apple Watch Avete uno smartphone Android Vi basta collegare Questo telecomandino Bluetooth Allo smartphone E controllate tutto Tramite il telecomando Si accende con un tap Prolungato E ha un led Che vi indica Anche diciamo La ricarica Poi per quanto riguarda Appunto quest'ultima Si ricarica con una semplice Micro USB Avrei preferito Sicuramente La Type C Però vabbè Sotto questo punto di vista Ci potrebbe stare Anche perché Il prezzo È veramente Se così possiamo dire Ridicolo Ma per Come è costruito Per come funziona E quello che vi offre È assolutamente Un gadget Da avere Senza ombre di dubbio Proprio ad occhi chiusi Acquistatelo Forse uno dei supporti Che vi darà più soddisfazioni Vi aggiorerò poi con i vlog Sempre sul secondo canale Quindi seguitemi anche lì Molto importante Detto questo Andiamo avanti E procediamo Con un altro gadget Di Spigen 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 Non lo so Ma bene Che vi va a risolvere Un problema Effettivamente Che ho creato In un video Perché in un video Vi ho parlato Di un Di un cavo Della Rolling Square Che effettivamente Vi permette di avere Più attacchi Con un singolo cavo Non so se sono stato chiaro Ma era un cavo Molto molto utile Ebbene Ho trovato una soluzione Non solo più economica Ma anche Diciamo più semplice Da trovare Ed è della Spigen Come vi dicevo E che cosa vi offre? Beh sì Ha solo un'entrata USB Questo mi fa un po' Così arrabbiare Ma è una rinuncia A cui posso cedere Sotto questo punto di vista Ma vi offre Un aggancio Micro USB Uno Lightning E uno invece Type C Quindi super completo Bello resistente Bello lungo Comunque lungo il giusto Ottimo anche il fermacavo Completo Economico E assolutamente Da acquistare Se volete essere Un attimino più minimal O comunque completi E avere sempre Il cavo giusto Nella tasca Nella borsa Due volete Fantastico Straconsigliato Per concludere O comunque per andare Verso la conclusione Vi parlo due gadget Per iPad Questa qui È un Apple Pencil Con una cover È una bomba Questa cover Sempre di Elago Costa pochissimo Ma se avete un iPad E un Apple Pencil Che sia di prima O di seconda generazione Dovete acquistarla C'è una versione Proprio per la prima generazione Quindi valutate Vi lascerò il link qui sotto Ma ragazzi È una bomba Perché non solo Vi protegge la penna Da eventuali cadute E mi sto allenando Un po' a fare Quei soliti giochetti No? E quindi Mi rende un po' più sicuro Sotto questo punto di vista Perché la faccio Cadere spesso Ma vi rende appunto Non solo più sicuri Ma Vi migliora anche un po' La presa Diventa una specie di matita Particolare all'utilizzo E La approvo al 100% Anche perché Vi permette di Ricaricarla comunque Di utilizzare il magnete Della penna Su iPad Quindi completa sotto Ogni punto di vista Detto questo Concludiamo per quanto riguarda iPad con questo qui Questa è una borsettina Una custodia per iPad Della Native Union Che ha il giusto rapporto Qualità prezzo Secondo me Costa sui 17 euro Una cosa del genere Ma Perché sceglierla? Semplice È ben realizzata Ha un design eccezionale Veramente fantastica Ha una piccola entrata qui Che vi permette poi Di mettere Che ne so Un power bank Uno smartphone Un bullet journal Un agenda Quello che volete Ma vi protegge al 100% Anche l'iPad Vedete questa finitura interna È veramente eccezionale E Poco da dire ragazzi Mi ha dato un sacco di soddisfazioni E La amo L'acquisterò Ve lo dico già Anche per MacBook Ve la straconsiglio Bello il design Bello tutto Native Union Un marchio a cui Affidarsi al 100% Concludiamo poi Con il gadget Che esce un po' Fuori budget Ma che quando lo trovate In offerta Va a pieno regime Nel budget Ma in generale Mi ha stupito Mi ha dato un sacco di soddisfazioni E ve lo straconsiglio A prescindere Ve lo dico In maniera molto aggressiva Le miglior Cuffie Rapporto Qualità Prezzo Sono queste qui Un prodotto di Realme Non avevo mai provato Un prodotto Realme Ma Eccezionali Nello specifico Non ricordo il nome Ma adesso lo vado a leggere Sono le Realme Buds Air 2 Con Un sacco di caratteristiche Ci vorrebbe un video Proprio Dedicato a queste cuffie Perché sono veramente Eccezionale Ragazzi Se volete un approfondimento Fatemelo sapere Ma sappiate che Sono Perfette Per Il design Perché mi piace molto Non è neanche Tanto invasivo Le inserisco qui Guardate Sono veramente Super minimal Hanno un ottimo microfono Comunque mi hanno dato soddisfazione sotto questo punto di vista In chiamata Antonio Che è sempre critichello Non mi ha mai dato problemi Mi ha sempre detto che mi sente bene Quindi ottimo Sono in ear Ma super comode Non le sentite proprio All'orecchio Hanno la suppressione attiva dei rumori Una latenza praticamente inesistente Quindi video e tutto il resto Sempre bello sincronizzato E in pari Sono perfetti Hanno un audio Bello Bilanciato E per il prezzo Sono una bomba Ragazzi Assolutamente Da provare Se cercate un paio di cuffie Economiche True wireless Queste sono tra le migliori Per quanto mi riguarda E per quanto riguarda poi Quello che effettivamente Ho provato Ve le straconsiglio Mi piacciono troppo Le sto utilizzando L'avete visto anche su Instagram Le sto utilizzando tutti i giorni Per studiare E non ho assolutamente Problemi Perché isolano Ma non tantissimo E quindi sono perfette Per quanto riguarda lo studio Hanno un suono abbastanza bilanciato E l'unico problema grosso Che hanno Sono i comandi Che chiedo Proprio Proprio zero Funzionano abbastanza così Ma è qualcosa che Diciamo salto abbastanza facilmente Perché alla fine Play pausa Va bene E il resto Che proprio non si capisce Però Per il resto Una bomba Detto questo Vi ho fatto vedere Vi ho mostrato un po' Tutti i gadget Fatemi sapere cosa ne pensate Per altri video del genere Sapete bene cosa fare Mi affido a voi Mi raccomando Iscrivetevi al canale Azionate la campanellina E ovviamente Lasciate un bel mi piace E nei commenti Fatemi sapere cosa vi piacerebbe vedere Prezzi Budget Gadget Specifici Eccetera eccetera Ancora una volta Grazie Grazie mille Un bacione Abbraccio Da me Giù È tutto Buona giornata Vado Ad editare Grazie mille